Quando vedi il trailer di questo ennesimo adattamento, di questa favola che sapete perfettamente mi fa incazzare dalla testa ai piedi ero rimasta piacevolmente sorpresa dalle atmosfere, dal fatto che ci fosse un forte messaggio femminista e tutto quanto poi l'ho visto e devo ammettere che questa recensione sarà mezza incazzata e mezza no perché va bene fare un adattamento musical però senza esagerare e soprattutto senza voler anche copiare Moulin Rouge per favore Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight's Tube, come avete intuito dalla intro oggi vi parlo di un film uscito su Amazon Prime qualche tempo fa, adesso mi ricordo se due o tre mesi fa ma mi sono presa il mio tempo per guardarlo perché dovevo essere nel mood e già il fatto che fosse l'ennesimo adattamento di una favola che sapete perfettamente se siete andati a vedere il video che ho fatto sul classico Disney sapete perfettamente quanto io detesto questa storia e soprattutto questo personaggio però mi sono fatta coraggio, l'ho guardato e devo dire che a tratti mi ha convinto e a tratti invece no sto parlando di Cenerentola, l'adattamento appunto con l'uscito su Amazon Prime non ho molto da dire su questo film, diciamo che ho un po' ancora le idee confuse dopo averlo visto però devo dire che la Cenerentola interpretata da Camilla Cabello, cosiddetta una bravissima cantante non è che mi abbia lasciato tanto insoddisfatta e sono proprio alcune cose che secondo me in questo adattamento non funzionano ma adesso appunto ne parliamo quando avevo visto il trailer ero rimasta piacevolmente sorpresa dalle atmosfere, dai colori e tutto il resto mi sono detto vabbè e non Cenerentola musical e ci può anche stare però allora intanto una cosa voglio dire neanche in Moulin Rouge c'erano tutte queste canzoni Moulin Rouge che è stato uno dei capostipiti diciamo dei musical al cinema diciamo uno dei migliori anche mai fatti a parte il finale che c'era bisogno, c'era bisogno puttana e va di quel finale comunque anche in Moulin Rouge avevano questa, avevano fatto questa cosa Moulin Rouge è stato il primo a farla ovvero prendere canzoni di altri autori e adattarle al film qui hanno fatto la stessa identica cosa in questo Cenerentola hanno preso canzoni di altri autori e le hanno adattate al film ogni canzone, ogni scena aveva la sua canzone però non è un po' riadattata ecco però quasi palesemente uguale io invece mi aspettavo delle canzoni originali insomma scritte appositamente per il film nel senso ti piace vincere facile c'è questa alla fine quello che si sono detti quando hanno pensato di fare questo Cenerentola di cui secondo me, di questo adattamento, vi dirò la verità si poteva anche fare a meno perché per carità, perché ti metto, io metto subito le mani avanti metto subito le mani avanti questa Cenerentola sì, si fa schiavizzare in casa sua anche questa però già il rapporto anche che ha con la matrigna è molto diverso la matrigna che poi è interpretata da Idina in Dina Mazel che è diventata famosa per essere la doppiatrice e anche la cantante di Elsa in Frozen per aver cantato Lely Go è una verità, infatti anche qua voce stratosferica, niente da dire poi la faccia da stronza anche questa comunque ce l'ha il film parte appunto con questo paesino questo piccolo regno che è il paese del ritmo la città del ritmo, insomma non è che mi ricordo tanto vi dirò la verità perché l'ho guardato una settimana e mezza fa sono, cominciano invece di lavorare cominciano a ballare così, senza senso perché loro sono la città del ritmo però sono anche la città del sessismo quindi io mi domando se siete così progrediti da mettervi a ballare musica pop perché le donne non possono avere una propria attività cioè, è un po' una stronzata questa adesso perdonatemi c'è un po' Cenerentola, Ella anzi anche qua si chiama Ella perché le sorelle la chiamano Cenerentola perché a volte avevano un po' la faccia sporca dicendo per forza la schiavizzate in casa vostra anche il rapporto con le sorellastre qui è molto diverso Cenerentola qui comunque è sempre buona e gentile con chi la schiavizza però le sorellastre sono meno stronze rispetto alla favore originale anche la matrigna anche se è stronza anche qua però non è ai livelli di quella della Disney per dire, per dire diciamo che questi live action hanno sempre cercato di ammorbidire un po' la matrigna tranne il live action di Kenneth Branagh che invece l'ha resa stronza fino alla fine invece anche in quello lì La leggenda di un amore c'è un momento in cui la baronessa per cazzo si chiamava Ludmilla de Ghent ecco si chiamava così con l'interpretata da Jennifer Houston mostrava un po' di gentilezza gentilezza proprio uno o due scene a Cenerentola cioè a Daniele in quel caso però io non capisco veramente perché mettere una cazzone dietro l'altra cioè anche la Disney comunque aveva i suoi limiti sì c'erano le canzoncine di cui non capivi un cazzo però perché una dietro l'altra cioè il copione di questi attori la parte recitata sarà stato un foglio a quattro perché passano poi il 90% del film a cantare voi mi dite vabbè è un musical va bene però dopo un po' ti rompi i coglioni le canzoni dopo un po' fan cagare fan cagare il cazzo cioè ti rompi le palle io voglio vedere recitare il film anche se è un musical ogni tanto neanche i Moulin Rouge erano tutte queste canzoni Moulin Rouge appunto era bello perché comunque noi vedevamo nascere la storia della strassatina e Christian sia attraverso le canzoni che attraverso anche la recitazione di quei due mostri di Juan McGregor e Nicole Kidman qui questi due vabbè che vabbè a livello recitativo lasciamo stare stendiamo un vero gli unici che si salvano in questo film sono Minnie Driver che è una bravissima attrice inglese e Pierce Brosnan Pierce Brosnan che è passato da fare 007 e ultimamente ha fatto anche una serie The Son ambientata appunto nell'800 e quali sono i primi nel 900 mi pare non l'ho vista vorrei vederla ma non ho ancora avuto il tempo di mettermici a essere il re più sessista nella storia dell'umanità Pierce Brosnan c'è qualcosa che è andato storto nella tua carriera però se ti sei divertito tanto meglio appunto c'è questa famiglia reale che è composta appunto dal re e Pierce Brosnan la regina Minnie Driver e poi ci sono il principe che non mi ricordo come cazzo si chiama l'attore e la sorella minore il principe chiaramente non ha sbatti di sposarsi di fare eredi e di fare il re lui ancora non sa cosa cazzo vuole nella vita qui diciamo che è un po' più caratterizzato rispetto all'originale anche se devo ammettere che non batte quello di Richard Madden anche Richard Madden anche il principe di Richard Madden aveva comunque i suoi problemi non sapeva bene se voleva fare il re non sapeva bene un po' cosa doveva fare infatti lui si definiva un apprendista che sta ancora imparando il mestiere invece questo qua c'ha 0-2 vuole soltanto cazzeggiare con i suoi amici questo principe qui mentre ella diciamo un po' più concreta ella sogna di fare soldi di aprire una sua attività vendendo i vestiti che confeziona lei stessa purtroppo però vive in una società sessista al limite dell'impossibile e questo mi è sembrato anche un po' un tentativo neanche tonto riuscito a mio parere di scimmiottare il sessismo che la Disney era solita mettere nel film di Cenerentola perché c'era sessismo in quel film non diciamoci stronzate la Disney era molto sessista i primi tempi adesso ha dovuto smettere perché se no li arrestano e quindi riconosce infatti anche la matrigna dice ma quando mai ma tu una donna che si metti da fuori ma stiamo scherzando ecco questa è una delle poche note positive che posso dare a questo adattamento il forte messaggio femminista che ha voluto bandare ho usato un po' alla cazzo ma va bene va bene perché Cenerentola nel film non parlo dell'election nell'originale la fiava originale nel cartone Disney diciamo prendiamo quello come modello anche perché è quello più noto quella lì pensava soltanto a pulire rassettare e farsi schiavizzare in casa tua e aspettare che i sogni diventassero realtà invece questa la Cenerentola di Prime si fa un culo cerca di farsi un culo grosso come una casa per affermarsi infatti a un certo punto prende anche il proprio vestito e se ne prende io porca mi sono rotti i coglioni di chi mi dice chi è che mi dice che non lo posso fare prende questo vestito che ha confezionato lei anzi prima c'è un discorso memorabile del re in cui annuncia il ballo in cui saranno invitate tutte le ragazze da marito per il figlio perché il figlio si deve sposare e deve ingravidare qualcuno anche qua lo stesso messaggio di merda che c'era nel cartone porca puttana ma qui proprio è che ha una mentalità sessista ma da fare schifo proprio infatti la figlia la figlia come cazzo non mi ricordo neanche più come cazzo si chiamava la figlia minore lei proprio lei cerca di esporre a ogni riunione a ogni occasione che ha le sue idee politiche e sono anche idee politiche niente male ma lui Zetta hai la vagina fuori dai coglioni minchia e io dicevo ma che cazzo Prince Bronson con tutte le cose che va bene che ti hanno adesso non l'hanno cancellata ma minchia ma veramente non avevi altro da fare che andare a fare il recessista dopo una carriera di grandi successi tu sei stato uno dei migliori James Bond insieme a Sean Connery e Daniel Craig ti sei ridotto a fare questa roba qui io veramente stavo male per lui vi dirò la verità quindi appunto Ella si fa notare perché giustamente non vede un cazzo quindi si arrampica sulla statua del padre del re e lui infatti dice scendi da mio padre e figuratevi il principe poi la vede subito un pingone sotto grosso come una casa infatti poi dopo si camuffa da questo travestimento che sembra più un pirata che un contadino per cercarla in paese e la trova appunto che sta cercando di vendere un suo abito con gli uomini che la deridono una donna che vuole fare affari ma stiamo scherzando ma io dicevo mandatevene tutti a fanculo diciamo che a quell'epoca c'era questo è anche realistico però non calchiamoci troppo perché poi la gente si incazza comunque sia si incontrano lui si offre anzi di comprare il vestito che è fatto anche con una spilla che è appartenuta alla madre di Ella e poi ci sono canzoni canzoni a destra e a sinistra messe poi poi avessero anche un minimo in senso ce l'hanno ma sono messe anche così giusto per giusto per rompere i coglioni adesso scusatemi che queste mentre sta le tre per esempio la madre le tre le due sorellastre a un certo punto vedono questo bel manzone che è un contadino loro le due se lo mangiano e poi le sorellastre sono anche abbastanza simpatiche c'è ne una magrolina che è un po' insicura e quella cicciottella che è un po' la bullizza quell'altra ma sono simpatiche poi alla fine e poi come ho detto la trattano un po' meglio se ne entra rispetto al classico sono lì che stendono e si mettono a ballare e cantare ma perché va bene che è un musico ma io dicevo ma ancora poi c'era stata una canzone cinque minuti prima basta vi prego non se ne può più quindi appunto tutto questo susseguirsi di canzone e tutto il resto ella si confeziona il suo abito per il ballo il re che insiste col figlio che lui deve sposare questa principessa perché vuole un cazzo di mostro marino cosa cazzo vuoi cerca il capitano levo del nautilus lo porta a lui il mostro marino ma non andava a romper i coglioni non è che tuo figlio si deve inforchettare prima che passa perché tu vuoi un cazzo di mostro marino vai e prendetelo sto cazzo di mostro marino non rompe i coglioni da tuo figlio infatti c'è anche anche questo un po' il messaggio che è un pochino sessista perché appunto anche la moglie ogni volta che cerca di parlare lui la zittisce e io gli dicevo minchia regina come cazzo ti chiami ma prendi e tirai un cazzo di sgarassone da fargli girare la testa che manco Reagan nell'esorcista no io quelle cose lì anche se era l'epoca veramente non le sopporto e non le tollero è più forte di me ma poi vogliamo parlare di come vengono degli annunci reali con questa specie di di pop band che si mette appunto a cantare ma perché dovete cantare anche dando gli annunci reali questo non era veramente necessario assolutamente mai nella vita proprio no proprio io quelle cose lì non le ho capite va bene che siete la città del ritmo ma c'è un limite c'è un limite anche a questo porca troia e comunque sono tutti questi preparativi tutti questi preparativi che si preparano per il ballo lei che non sa che lui quello che è il ragazzo che incontra è il principe le sollezze che si preparano e tutto e lei appunto le sollezze sono pronte pronte a far colpo sul principe sì sicuramente con quelle due facce che vi ritrovate non sono brutte però c'è non sono all'altezza di un principe poi anche un bel ragazzo l'attore che fa il principe per carità di Dio e canta anche bene comunque credo che sia un ragazzo che appunto ha lavorato nello spettacolo teatri musical queste cose qui non mi sono rinformata vi dirò la verità anche perché a parte più sbrozna la Camilla Cabella la Millie Driver e la Indina non conosco nessun altro qua quindi appunto vedono appunto arrivareci da dentro con questo suo bellissimo vestito e qui per fortuna ci hanno risparmiato le solle lastre che le strapano pezzi di vestito o quant'altro perché stavolta grazie a Dio sì i topolini ci sono per carità di Dio i topolini ci sono parlano ma lei a quanto pare non li sente li sente solo squittire che non ci sono topolini che cuciono grazie a Dio grazie a Dio questo ce l'hanno risparmiato ci sono questi tre topolini maschi che le fanno compagnia nel seminterrato dove lei vive e lavora la vedono arrivare con questo bellissimo vestito infatti la sorella castra quella grassoccia e dica è finita abbiamo perso mi faccio una muffin e vado a dormire e che cosa fa la matrigna stavolta è stata qui un po' più suddola perché le dice che lei non può andare al ballo perché è già promessa a un maniaco sessuale che gli fa visita praticamente ogni santo giorno perché si vuole inforchettare Cenerentola ed è uno pieno di soldi e qui giustamente sicura la matrigna se la vuole levare dai coglioni ma allo stesso tempo vuole la sicurezza economica che poi figlia bella madrina dei miei coglioni tu sei la matrigna non sei la madre se quella si sposa tu non hai diritto a un cazzo almeno che io sappia non dovrebbe avere diritto a un cazzo perché comunque non sei la sua madre naturale tu hai solo sposato il marito che è lei mert basta la figliastra non è tenuta a mantenerti almeno credo non lo so come funzionasse all'epoca ma secondo il mio codice morale se lei si sposano più di soldi la matrigna può anche andare a fare in culo ti arrangi le tue figlie te le hai mantenete ancora i soldi di mio padre io ho i soldi di mio marito non mi cagare il cazzo quindi appunto di conseguenza le versa lui dice ma io non voglio sposare questo qua lei si impone io non voglio sposare quel mostro di Dusseldorf quel mostro di Firenze che viene tutti i giorni e mi guarda come se fossi un panino nel periodo della carestia porca miseria che si vede chiaramente che vuole solo inforchettarmi porca troia però la matrigna le getta un calamaglio addosso con l'ingostro e rovina tutto il vestito le sorellate appunto partono tutto il contente e lei appunto si mette anche un'altra volta a cantare e canta sempre e arriva questa farfalla di cui lei si stava prendendo cura quando era ancora nel bozzolo che si trasforma nella non è la fatta madrina è il vabbè è una fatta madrina maschio una fatta madrina maschio si è volentissimo ci sta questo cambiamento diciamo che mi è piaciuto perché comunque qua se la sono giocata anche bene perché qua non è una madrina che è stata a 18 anni senza fare un cazzo mentre la sua portetta veniva schiavizzata e è arrivata soltanto per darle un cazzo di vestito per andare a un fruttissimo ballo con uno sconosciuto invece di trasformare in rospo le tre che l'hanno che l'hanno che l'hanno sediziata no qui è semplicemente una farfalla che lei ha salvato e che vuole ringraziarla e sdebitarsi dandole appunto la possibilità di andare al ballo infatti le dà questo vestito preso da un suo modello trasforma i tre topolini in valletti tra cui c'è anche un comico che è James Corbin credo che si chiami così che tiene uno show appunto in let's show in America quindi e l'hanno preso con me perché sa cantare bene e perché è simpatico perché il giottore è simpatico trasforma una scatola in una carrozza e tutto il resto e fa in modo che nessuno mentre quando intanto che tiene il vestito la riconosca a parte il principe perché io come posso farmi riconoscere dal principe se non mi riconosce giustamente ok lui sarà l'eccezione fatta alla regola per il resto gli altri non la potranno riconoscere assolutamente e poi le dà appunto le scarpe di cristallo e lei dice sono un po' scomoda non riesco a camminare infatti vediamo che cammina così perché non ce la fa infatti io mi domandavo come cazzo faceva quella tusa a camminare su quelle cazzo di scarpe di cristallo come cazzo faceva non è possibile infatti lui le rende un po' più comode e anche qui dall'ultimatum mi raccomando fino a mezzanotte e daie ma cazzo ma almeno qui potevano togliere vabbè che senza la cosa della mezzanotte non esisterebbe la favola quindi va bene ok teniamocela quella cosa lì lei va al balo tutta contenta nessuno la riconosce anche la matrigna se inchina oh vostra e vostra grazia scusatemi se vi ho urtato e nessuno la riconosce e quindi appunto poi incontra questa regina di un paese straniero che le guarda il vestito e dice bellissimo il vestito chi l'ha disegnato sono stata io anzi prima che l'arrivata si è stato questo balletto di possibili di possibili pretendenti pretendenti scusate tutte infoiate come caimane che lo fanno capire appunto con questi balli che vogliono soltanto essere inforchettata dal principe e dai suoi amici anche e quindi appunto di conseguenza dopo questo balletto questa ennesima canzone presa sono tutte canzoni non sono originali è questo che è un po' uno scoppiazzamento della mollelluge l'ho già detto arriva poi lei lui finalmente la vede dopo che lei ha parlato con la regina finalmente la vede che poi fa anche una figura di merda facendo cadere uno degli strumenti della banda musicale dell'orchestra e c'è questo ballo con un'altra canzone che è Dancing credo che sia Dancing and Dark comunque è l'unica che mi ricordo e ballano ballano questo ballo sono innamoratissimi cantando si innamorano è successo così anche in Moulin Rouge più o meno più o meno loro appunto vanno in questa stanza lui suona il piano basta dio santo non ne potevo più questo film mi ha fatto detestare la musica un po' di silenzio un po' di tranquillità un po' di dialogo basta suonare e cantare comunque lui gli dice che sceglie lei come sua regina e tutto il resto però giustamente c'è l'entra Ella chiamola Ella gli dice chiaramente no che cazzo io non voglio solo stare a salutare su un palco così che non lo so neanche fare io voglio affermarmi voglio poter realizzare i miei sogni avere la mia attività e ma sai questo non è che si può fare nella nostra società e ora io mi domando bello mio se ti sposi diventi re essendo il re puoi fare quel cazzo che ti pare puoi cambiare le leggi puoi cambiare le tradizioni puoi cambiare tutto quel cazzo che ti pare ti costa tanto farlo perché poi devi disapprovare quel misogino sessista di tuo padre porca di quella misera una volta che lui è morto garanto non è che gli resta poi c'è la chiappa di sbruanda io spero che stia bene ci sta per salutare ti campa ancora 4-5 anni perché i re comunque avevano vita breve di conseguenza puoi cambiare quel cazzo che vuoi no giustamente rispetta la società la lascia andare arriva la mezzanotte la scappa 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 tira anche la scarpetta in testa uno degli amici del principe che stava cercando di fermarla ancora un po' lo occupa e di conseguenza appunto vedendo che lei è andata via il re poi l'ultimato sposerà la principessa del mostro marino entro entro la fine della settimana e la regina gli fa notare al re a un certo punto quanto si è diventato in un dialogo gli fa notare quanto perché comunque lui ha detto ma io non sono innamorato non me ne frega un cazzo se non sei innamorato tu fai quel cazzo che dico io perché voglio quel cazzo del mostro marino quindi appunto la madre ci resta anche male e fa un bel discorso al marito che tradotto si può dire eri una bravissima persona prima di metterti in testa quella cazzo di corona adesso sei un fottuto bastardo maschilista che mi sono pentita di aver sposato il discorso più o meno si può riassumere così ve lo posso assicurare gli fa notare che insomma anche adesso dicendone in maniera un po' velata un po' più gentile che prima era l'amore a guidarlo adesso è il sessismo praticamente allora mettersi una mano sul cuore finalmente colpito dalle parole della moglie probabilmente dal permesso al principe di andare a cercarsi la fanciura della scarpetta che qui perlomeno è riconoscibile lui sa come il principe che non si ricordava neanche che faccia avesse minchia bravo bravo porca puttana e anzi il principe che si fa l'incenerente io mi sono sempre domandata perché non è andato il principe a cercare dato che l'aveva vista non è andato il gran duca ma scusa ma sei scemo ma cosa cazzo scusa se lui se il principe andava si risolveva tutto in dieci secondi in dieci secondi e ci fu tuttissimi secondi certo c'è anche da dire che una volta avesse le sorellastre sarebbe scappato via e ce n'è dentro sarebbe rimasto reinchiuso per il resto della sua vita però vabbè invece in questo caso è lui che con i suoi amici si fa il culo va a bussare ogni porta mentre appunto ella è tormentata dal fatto che non sa se scegliere l'amore per il principe o andare dalla regina straniera e viaggiare con lei se lei approverà i suoi modelli per il mondo realizzare i suoi abiti e quindi appunto arriva la matrigna che la cerca perché non ha preparato il tè sia mai lei fa finta di stare male la matrigna trova la scarpetta e dice che deve sposarlo così tutti i loro problemi saranno risolti lo ribadisco non sei sua madre se quella si sposa a te non te ne frega il nostro cazzo di nulla la devi smettere di fare affidamento sui soldi non tuoi se ti sposano le sue figlie allora ancora ancora ma questa non è tua figlia non ti devi un cazzo porca puttana la smetti o no di voler fare affidamento sui soldi di questa crescita dopo che l'hai tolto la casa la dignità e l'hai schiavizzata per chissà quanto tempo solo perché l'amore per il suo padre te la faceva tenere in casa stronza che non sei altro quindi appunto ella si rifiuta e lei gli dice perfetto allora ti sposi il mostro di Dusseldorf che viene qua tutti i giorni e ti guarda infoiato come un caimano e non voglio ti consegnerò a lui manco fosse un pacco postale e lì veramente qua non ce l'ho fatta quando cazzo figlio dicevo quando finisce sto figlio perché io mi sono mi sono sottoposta a questa tortura ah sì perché me l'avete chiesto voi comunque ella appunto diciamo che accetta ma c'ha un piano appunto lei il suo cervellino questa ella è anche abbastanza intelligente ha già tutto programmato il principe intanto continua a bussare casa per casa sperando di trovare ella lei nel frattempo mentre è sulla carrozza con l'allutto dei topolini che spaventano il cocchiere tutto riesce a saltare giù dalla carrozza e a scappare via scappa verso la città e mentre scappa a piedi praticamente si incrocia col principe c'è questo dialogo in cui appunto lei lui le confessa tu sei il mio amore non dobbiamo sposarci proprio adesso insomma qui mi è piaciuto perché comunque ho messo le mani avanti guarda che non ci dobbiamo sposare subito io non voglio essere lei io voglio soltanto stare con te e questa cosa mi è piaciuta tantissimo va bene una principe che è disposta a rinunciare al suo trono per per amore va bene perché lui vuole stare con lei quindi appunto lei gli chiede lei a tutto il punto di cambi sentimenti gli chiede per favore mi accompagni in paese perché mi stanno aspettando ad un appuntamento salgono salgono a cavallo la principale la Lella incontra la regina che dice di preparare i bagagli e loro vanno appunto dalla famiglia di lui dicendo che non si sposeranno per adesso ma viaggeranno per il mondo con la regina straniera e nel frattempo devo dire questa cosa avranno anche il tempo di conoscerci non abbiamo fretta di sposarci intanto questa cosa mi sta bene perché almeno questi due avranno la possibilità di conoscersi e di capire se effettivamente possono sposarsi essere effettivamente una coppia e poi vivere a palazzo perché comunque il principe rinuncia alla corona e il padre accetta decidendo di rendere la sorella prima in linea di successione e la sorella è contentissima perché era quello che voleva era quello che voleva e lei ha delle orfati lei è contentissima un sacco di idee vedrete come cambierò le cose meno male spero figlia bella che tu le cambierai in meglio che poi c'è stata anche questa scena divertentissima in cui più sbrozza stonatissimo io non so se lui canta così con l'armatura fa una serenata alla regina come faceva i primi tempi che erano fidanzati quindi molto tenera molto simpatica come scena e il film appunto si conclude con loro sul palco con la ragazza incoronata erede al trono prima in linea di successione con l'annuncio del finanziamento tra ella e il principe e tutto e c'è di nuovo altri balletti un'altra canzoncina e tutto e qui veniamo alla grande differenza tra il classico e questo qui appunto arriva a un certo punto la matrigna le sorelle stavano ballando appunto con tutti quanti arriva la matrigna perché la matrigna infatti le spiega aveva raccontato mi ero dimenticata questa cosa aveva raccontato che lei appunto aveva il sogno di diventare una grande pianista ed era bravissima però proprio quando si è sposata ha avuto le figlie ha avuto l'occasione di andare a studiare in una scuola prestigiosa è stata via non mi ricordo qualche mese insomma pochi mesi e quando è tornata il marito l'ha messa sotto chiave perché a quanto pare non riusciva a gestire quelle due bestie che avevano messo al mondo probabilmente no anche lì il sessismo e diceva appunto che il mondo non aveva bisogno di un'altra sognatrice quindi diciamo che hanno cercato di farci empatizzare con la cattiveria della matrigna perché appunto le hanno impedito di realizzare i suoi sogni e infatti dicevo marito ma perché non l'hai lasciata lì perché non l'hai lasciata lì che almeno ci saremmo risparmiati un sacco di fatica quindi appunto vediamo loro che cantano che si chiariscono e qui diciamo che c'è appunto la prima differenza tra il classico e che Cenerentola ella si chiarisce con la matrigna e ridagli di balletto di canzoni fino alla fine del film con appunto il narratore che alla fine è fatta madrina maschio che racconta che il nome di Cenerentola divenne famoso dappertutto e che visse sempre felice e contenta allora io che cosa posso dire di questo di questo nuovo adattamento non è brutto perché comunque a livello di costumi a livello di di scenografie e tutto è fatto bene ma è proprio anche di per sé è inutile cioè nel senso non serviva non mi serviva un musical basato su Cenerentola questi soldi potevano essere investiti in qualcosa di nuovo in qualcosa di originale poi per carità per gli amanti dei musical dei balletti a tutto spiano è perfetto infatti io so di molte amiche che adorano questo genere di film a cui è piaciuto tantissimo ma anche a me piacciono i musical ma con una certa moderazione cioè io voglio vedere i protagonisti anche dialogare non solo cantare ecco e qui cantano l'80% del tempo e lei ci sarà l'altro 20% cioè ma porca di ma neanche la Disney ma neanche Moulin Rouge porca di quella miseria quindi appunto poi per carità mi è piaciuto il forte messaggio femminista che ha voluto mandare anche se in maniera un po' bella ma va bene ci accontentiamo mani avanti metto le mani avanti su questo per carità di Dio e tutto il resto mi sono piaciuti i costumi e anche devo dire anche gli attori ho visto di peggio della verità almeno cantano bene perché appunto li hanno presi per quello perché erano bravi a cantare a parte Peace Brosnan erano bravi a cantare e però non lo so sinceramente anche se non lo vedevo sarei stata meglio non mi ha lasciato niente mi ha lasciato sì l'incazzatura sempre del sessismo ricorrente che c'è sempre però per il resto non mi è saputo né di sale né di acqua cioè sta lì vi consiglio appunto di vederlo se siete amanti appunto dei musical dei flash super coloratissimi e appunto di Cenerentola per il resto se no anche se non lo guardate secondo me la vostra vita andrà avanti allo stesso modo bene anche questa recensione filmosa chiamiamola così si conclude io spero che vi sia piaciuta vi ricordo come sempre che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale e soprattutto seguirmi su Instagram link in descrizione io su Instagram tengo aggiornati su tutte le attività del canale sulle live faccio anche sondaggi per prossimi video se volete questo tipo di video se non lo volete insomma io su Instagram faccio di tutto tengo aggiornati su tutto sulle letture sui video su pubblicazioni su tutto quanto quindi mi raccomando link in descrizione e seguitemi e soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi assolutamente nessun video vi ricordo poi che in descrizione troverete anche il link della pagina Facebook Carol Italia dedicata appunto a The Walking Dead e Carol adesso abbiamo ripreso un po' con le live ne abbiamo ancora due in programma poi si vedrà perché Carol è molto impegnata con lo studio quindi di conseguenza ci dobbiamo organizzare fino a febbraio però ce la faremo sicuramente ancora due o tre live le faremo ancora prima della fine dell'anno prima di febbraio mercoledì appunto faremo la seconda pagella della gru del secondo gruppo di questa prima parte di stagione ovvero Alexandria quindi vi aspettiamo numerosissimi mercoledì alle 21 e adesso in descrizione troverete anche perché ho deciso visto che mi hanno fatto pubblicità ho deciso di ricambiare troverete anche il link della pagina Facebook The Walking Dead Ita Family che è una secondo me delle pagine Facebook italiane più informate sulla serie quindi mi raccomando trovate un sacco anche lì un sacco di aggiornamenti un sacco di news un sacco di foto retroscena dietro le quinte chicche curiosità quindi mi raccomando se amate The Walking Dead andate in descrizione e trovate i link di queste due pagine fantastiche dove potete trovare tantissime cose inerenti a The Walking Dead se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettetevi un bel pollice in su e fatemi sapere voi nei commenti se avete visto il film cosa ne pensate se vi è piaciuto se non vi è piaciuto i motivi insomma confrontiamoci se invece non l'avete visto e se vi ho convinto vi ho tenuto ho deciso oppure avete deciso di stare alla larga dopo aver visto il mio video e sono fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ragazzi vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti bebe 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 Grazie a tutti.